Leggings e canottiera morbida nera che le lascia scoperto l'ombelico e la pancia piatta e tonica Occhialoni a coprirle il volto, capelli lunghissimi e broncio da diva Ai piedi scarpe sportive per fare shopping comodamente, al braccio una Chanel ovviamente Barbara Guerra da fisico sceglie il bikini giusto per l'estate 2012 La bella che sul social posta spesso foto in due pezzi e sexy anche con i vestiti addosso Con lei un'amica, le due scelgono i trendissimi due pezzi a fascia Già abbronzatissime si preparano ad agosto di mare ma pure di lavoro